Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, volevo innanzitutto ringraziarvi di cuore per tutto il vostro supporto, abbiamo superato i 2.500 iscritti e ci avviciniamo ai 3.000 ragazzi, boh non mi sembra vero. Comunque grazie, grazie veramente, faccio questo video per annunciarvi finalmente l'uscita di quello che non sai di me su tutte le piattaforme digitali, quindi Amazon, iTunes, Deezer, Spotify, dappertutto ragazzi, la trovate dappertutto e potete anche utilizzarla per le vostre stories di Facebook, Instagram e anche per i video su TikTok. Quindi benissimo, benissimo, potete utilizzarla per quello che volete voi ragazzi, come anche appunto Aria che è uscita venerdì, a breve uscirà anche luce su tutte le piattaforme, vi terrò aggiornati in questo, quindi ragazzi, mercoledì, oggi è il 16, mercoledì 18 maggio 2022 esce quello che non sai di me, ovunque, su tutte le piattaforme e anche qui su YouTube perché il distributore me lo distribuisce ovunque, YouTube compreso, quindi si verrà a creare appunto questo video automaticamente su YouTube. Niente, vi ringrazio, vi ringrazio ancora una volta e crescete sempre di più e condividete la mia musica, ragazzi, ci tengo veramente tanto, mi raccomando, cresciamo, cresciamo, cresciamo sempre di più, così aiutate il mio sogno a diventare realtà. Un bacione a tutti, ciao, mi raccomando il 18 maggio.